a tutti benvenuti a questo nuovo appuntamento con i plugin stock di studio one oggi guardiamo bineural pan un plugin che controlla il panorama stereo o anche un convertitore mono in questo caso l'ho applicato al suono di pianoforte che stiamo ascoltando possiamo controllare il pan del canale spostandolo a destra o a sinistra vi consiglio sempre di ascoltare i tutorial in cuffia e la funzione width che aumenta l'effetto stereo quindi separa ancora di più il segnale spostandolo verso i side laterali quindi lasciando libere ad esempio le frequenze di basso e cassa all'interno del mix spostandolo dalla parte opposta andiamo verso il segnale mono in alternativa possiamo cliccare su mono e ascoltarlo direttamente in mono spero vi sia stato utile non dimenticate di iscrivervi al mio canale continuate a seguirmi su facebook musicoff e su youtube ciao a a tutti